A che punto sono i lavori per la costruzione del nuovo auditorium e della nuova ala del Cavalieri? A chiedere il sindaco Silvia Marchionini, che richiama l'attenzione sui lavori, ricordando che dovevano essere completati per la nuova ala entro lo scorso settembre per l'auditorium entro l'estate. E aggiunge, molte segnalazioni mettono in evidenza un cantiere che avanza lentamente, poco presidiato, visto che di comunicazione in materia su temi e modalità di svolgimento e conclusione dei lavori non sono state diffuse dalla provincia, visto che il consigliere provinciale Albertella è dedito solo al controllo giornaliero dei cantieri altrui, vorremmo capire se le segnalazioni pervenute evidenziano problemi reali e se l'ente provinciale intende comunicare lo stato della situazione. Meglio tardi che mai, finalmente anche Marchionini si sta rendendo conto degli importanti investimenti che la provincia sta realizzando a Verbagna sulle edifici scolastici di propria competenza, ribatte il consigliere di Verbagna Futura, Gian Domenico Albertella, ma venendo meno alcuni argomenti a lei cari, polemizza tutti i costi e commette un errore, rammenta tempi di realizzazione e di ultimazione dei lavori privi di alcuna fondatezza, mai comunicati né dal sottoscritto né dal presidente, che possono essere smentiti dalla semplice lettura degli atti amministrativi. Ha controreplicato Marchionini, ci siamo limitati a far osservare quanto da mesi e tutti verificano passando uno scavo fatto e lavori interrotti. E ancora la battuta di Verbagna Futura, il gruppo di Albertella, che Marchionini accusi Albertella di preoccuparsi dei cantieri da lei definiti altrui, la dice tutta sullo scadimento del suo livello di dialettica politica. I lavori altrui appartengono a tutti i verbanesi.